cosa succede quando si assegnano dei compiti facciamo degli esempi io entro nella mia classe perché ho deciso di assegnare un quiz preparato con moduli apro la schermata di creazione del compito assegno il quiz lascio il valore di 100 punti e poi lo mando lo assegno nella schermata iniziale della classe apparirà la mia comunicazione che ho assegnato un compito mentre nella pagina dei compiti dell'alunno apparirà il compito lui non dovrà fare altro che cliccare aprire il quiz e rispondere alle domande al termine sceglierà di farsi mandare una copia delle risposte e poi invierà il lavoro io docente cosa faccio entro in moduli e qui trovo il modulo quiz prova che ho inviato come compito eccolo qua a me però interessano le risposte che in questo caso è una sola perché ho un solo alunno entro nelle risposte e qui ho due scelte posso valutare domanda per domanda per vedere come è andata ciascuna domanda oppure posso scegliere individuali e valutare alunno per alunno mi si apre il suo quiz già corretto automaticamente perché quiz moduli corregge automaticamente se gli ho dato le chiavi di risposta lui ha totalizzato quattro punti che è il massimo e io pubblico il punteggio in questo caso coincidono perché ho un solo alunno invio la mail che lui riceverà tornando nella schermata della mia classe vedo che l'alunno ha consegnato il compito lo apro gli do il punteggio abbiamo detto prima che ha totalizzato quattro punti su quattro e poi restituisco quindi invio la valutazione del compito al mio alunno visto che ha fatto tutto giusto gli dico anche che è stata brava perché ha risposto correttamente a tutte le domande se poi torno nella schermata iniziale e vado dove c'è scritto voti mi compare una sorta di registro che riassume tutti i lavori del mio alunno con le relative valutazioni invece di assegnare un quiz diciamo che voglio semplicemente fare una domanda scelgo domanda scrivo la domanda che voglio porre questo caso è molto semplice lascio il valore di 100 punti e la mando l'alunno nella sua pagina vede la mia comunicazione la apre legge la domanda scrive la risposta nel box in alto a destra e poi la invia va nella pagina dei lavori e qui ci sono entrambi i compiti che abbiamo visto prima nella mia invece di schermata io apro il suo compito vedo che la risposta è giusta la risposta valeva 100 punti quindi gli scrivo 100 punti e come al solito gli restituisco la valutazione nella pagina dei compiti nella pagina dei compiti lui vedrà che il suo compito è stato valutato apre e vede che la risposta è stata valutata è corretta e quindi io gli ho dato i 100 punti che valeva la risposta ecco in che modo però l'alunno sa tutto questo entrando nella sua casella di posta qui trova tutte le comunicazioni ad esempio qui c'è la comunicazione che l'insegnante ha valutato il suo compito 100 punti su 100 lui apre trova la sua pagina con la valutazione quello che abbiamo visto che abbiamo visto prima torniamo nella casella di posta e qui ci sono tutte le altre ad esempio la notifica del punteggio che ha ricevuto nel quiz 4 su 4 se clicca su visualizza gli si apre la sua pagina perché lui aveva scelto di farsi mandare una copia delle risposte e quindi può anche rivedere tutte le risposte qui viene avvisato che ha preso 4 punti su 4 nelle risposte del quiz 4 su 4 e qui viene avvisato che io le ho mandato un commento commento privato che vede solo la mia alunna la quale gentilmente decide di rispondermi e anche questo commento lo vedrò solo io perché stiamo chattando nella sezione dei commenti privati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti